Ragazzi, scelta e scelta l'opportunità dell'Università! Vorrei ringraziare il nostro corpo di valo, la fantastica animazione! E poi vorrei presentarmi lui! Signori e signori, this is a very special guest DJ! From all around the world, Tom, dai! Dai, migliori club d'Europa per voi questa sera! Insieme a me che sono un mickey di mi presento! Lui è Astri, Cool Time DJ! Alla prossima! 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 Alla prossima!